E c'è un'Italia da Serie A che parte dalla Svizzera e arriva a Viena a Roma e da Napoli a scendere, è un'Italia di Serie B anche di Serie C. Ma non male che a Napoli, è tutto parentesi, ma non male che a Napoli, a Napoli, a quest'anno vi c'è un scudetto, non c'entrata niente. Ma adesso non parliamo di questo. Noi siamo un'Italia di Serie B.